ciao a tutti noi siamo operativi come vedete quindi vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 siamo tutti siamo qui quindi vi ascoltiamo per farvi provare questo che cos'è il crossfit il crossfit sono movimenti funzionali costantemente variati alla tendenzità i movimenti funzionali sono quelli che noi utilizziamo tutti i giorni quindi camminare saltare spostare pesi pensiamo a lavori molto pesanti come il muratore il famigliame oppure quelli che comunque i ragazzi fanno scuola quindi correre saltare questi movimenti sono movimenti composti cioè utilizzo più articolazioni ma hanno scopi contemporanei costantemente variati vuol dire che ogni volta che venite qui da noi la lezione è ormai noiosa perché ogni volta che fate lezioni i movimenti sono sempre diversi e ben diversificati all'alta intensità invece corrisponde il lavoro cardiorespiratorio quindi questo fattore molto personale ogni persona ha la sua intensità e quindi anche questo promuove il benessere perché abbassando alzando comunque il livello cardiaco il cuore in a riposo generalmente fa meno sforzo